Siamo con Anthony Lamolinara, regista e attore, insomma, personaggio di grande espressione internazionale, ancora più nel Salento, si è innamorato un po' del Salento, girerà un film che è intitolato Lo Chef, una scelta non casuale, ti piace la cucina, ti piace il Salento, perché? Questa zona è veramente bellissima, questa zona anche piccola è la storia di un chef un po' pazzo, e lui, una storia di ossessione, di oppressione, edipo, è otto cine, è una chimica in un cervello e lui usare per prendere le donne, innamorato con lui, capisci? Questa è l'occasione per mostrare al pubblico che tu non fai soltanto cinema, infatti c'è una mostra che farai prossimamente, sempre nel Salento? Io ho già fatto la seguitura, speriamo che comincia a girare in 2020, questa storia qui, anche un po' in America, ma comincio qui, torno qui, ma anche in America. E' una tua seconda casa ormai, il Salento e Gallipoli in particolare? Solo mi piace, mi piace, il cibo, la gente, il mare veramente... penso. Ma è vero che stai cercando una casa qui a Gallipoli? Sì! Sì! Quindi ti vedremo qui, ti vedremo spesso! Sì! Ti vedremo spesso! Sì! 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 Mi piace, mi piace l'architettura e mi piace questa zona, molto! E allora quando tu trovi una persona, una cosa, non lo so, il cuore, il cervello, insieme, ti piace! Faremo un film, innamorarsi a Gallipoli! Sì! E invece io penso una storia di questa! Alle prossime puntate! Sì! Ti ringrazio, ovviamente un bocca al lupo, Anthony! Grazie a te! Grazie a te!